Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno e buon 25 ottobre con il Vangelo secondo Luca 13, 18-21. Diceva dunque, a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo rassomiglierò? È simile a un granellino di senapa, che un uomo ha preso e gettato nell'orto, poi è cresciuto e è diventato un arbusto, e gli uccelli del cielo si sono posati tra i suoi rami. E ancora, a che cosa rassomiglierò il regno di Dio? È simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in tre staglie di farina, finché sia tutta fermentata. Buon ascolto della lettura del commento al Vangelo di oggi, a Coraggio Luigi e Maria Picocco. Come sprigiona la sua forza e il regno di Dio? Due immagini usa Gesù nel Vangelo di oggi per spiegarci come opera il regno di Dio, la piccolezza e il nascondimento. Detto così può sembrare semplicemente l'elogio di due virtù rare nel mondo di oggi, o qualcosa di riservato a pochi eletti, capace di vivere così. Ma Gesù spiega bene che implicanze esistenziali hanno simili immagini. Per spiegarci la piccolezza, Gesù ci parla dell'affidabilità di un albero, che non si impone subito come un luogo che offre riparo, ma ha la pazienza di crescere un po' alla volta. Solo quando si ha la pazienza di coltivare le cose che contano, allora esse diventano riparo. Una relazione, ad esempio, si nutre di piccole cose. Con il tempo, quelle piccole cose rendono questa relazione affidabile, stabile. Un'istituzione, se fa rivoluzioni troppo veloci, è destinata a fallire in breve tempo. Ma si ha la pazienza di vivere dei cambiamenti lenti ma radicali, allora può cavolgere l'intera realtà, diventando un aiuto. La piccolezza, quindi, è la rinuncia all'apparenza per dar valore invece alla gradualità dell'ogni giorno. La seconda immagine è quella del nascondimento. Troppo spesso pensiamo che il nascondimento consista nel nascondersi. Ma esso significa altro. Esso è capire che ciò che fermenta tutta la pasta della vita è una forza che agisce nella parte più nascosta di noi e della realtà. Ad esempio, se nel cuore hai un grande desiderio, questo desiderio fermenta tutta la tua vita. Se nel cuore hai una grande passione, questa passione motiva tutte le tue scelte. Gli altri non vedono il tuo desiderio e la tua passione, ma le conseguenze che producono. La domanda è che cosa c'è nella parte più nascosta di noi? Grazie. Grazie. Grazie.